vado a fare un bel piatto vi faccio vedere adesso vi faccio vedere come si fa ripre questo piatto che chi viene mangiare questo piatto non paga niente se non finisce si paga guardate la carne ben corcante e ben cotta la qualità e la quantità conta sempre cari amici miei vi faccio vedere vi faccio dimostrare domno de toate guardate ragazzi allora chi viene mangiare questo piatto finisce non paga niente ma se non finisce ne paga ricordate bene qua mettiamo alla salsa yogurt guardate ragazzi alla maionese gli do ancora un po' di carne perché qua guardate qui l'epoca avete capito io devo darla mangiare la quantità alla qualità guardate ragazzi cari amici guardate chi ah guardate 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 Grazie.